C'è veramente da essere orgogliosi, continua questo sforzo enorme dell'amministrazione, di apertura ai cantieri, di creazione di economia, lavoro e in questo caso anche di completamento di due opere di grandissimo valore per la nostra città. Siamo partiti proprio questa mattina con la gara per il completamento per la città della giudiziaria, 26 milioni di euro, 15 mesi di tempo per completare tutta la nostra cittadella e trasferire lì tutte le funzioni giudiziarie e anche le funzioni che erano legate alle sedi staccate del nostro Tribunale. È una cosa che veramente ci riempie di orgoglio e che consente di completare una delle opere simbolo della nostra città. E poi la settimana prossima parte la gara di 10 milioni di euro per il completamento dell'Umberto I, della struttura che è di fronte al Conservatorio. Lì realizziamo un auditorium di 350 posti interrato, un parcheggio di 40 posti auto, due sale congressuali, una piazza di 2000 metri quadri che affaccia sul centro storico della nostra città e in questo modo completiamo l'intervento che è cominciato con il convento del San Lorenzo e del San Nicola credo che rifaremo anche la facciata del Conservatorio. Faremo nascere lì veramente un polo culturale di grandissimo livello. Ecco Sindaco, si utilizzano fondi europei, finanziamenti del precedente, rossa difficoltà dell'economia, un modo anche per sbloccare le attività economiche sul territorio in una provincia che vive inevitabilmente grosse difficoltà? Questo è il nostro modo di intendere quello che il governo chiama lo sblocca Italia. Il governo ha approvato un decreto in questo senso. Noi stiamo ancora più avanti nel senso che sblocchiamo davvero le opere perché puntiamo ad aprire i cantieri entro quest'anno. L'Italia si sblocca se hai progetti effettivamente esecutivi che puoi mettere in gara, altrimenti i tempi diventano davvero molto lunghi. Per quello che riguarda noi, fra opere di piccola manutenzione, il programma che vi abbiamo illustrato qualche giorno fa per una quarantina di milioni e queste grandi opere che completiamo, veramente noi teniamo in piedi l'economia della nostra città e del nostro territorio e vi prego di credere in un momento come questo è veramente un miracolo.